Sono di Caserta. Vengo da Ghana, però sono nata qua in Italia. Sono di Venezia. Sono di Algeria. Sono della zona di provincia di Vicenza. Sono dell'Umbria. Abruzzo, in provincia di Pescara. Ho deciso di venire a studiare qui. Per la quantità di persone da luoghi diversi. Per il prestigio dell'università stessa. Perché mi è sempre riusciuta l'Emilia Romagna. Studio lingue, culture e mercati dell'Asia. Ti studio antropologia culturale. La litiatura italiana. Filosofia italianistica, quindi. Relazioni internazionali. Giurisprudenza. Io vorrei fare l'antropologa. La mia vita è legata al mondo del cinema. Mi piacerebbe lavorare nella cooperazione. Nell'ambasciata in Algeria. Magari entrare in accademia oppure... Puoi contribuire anche tu a costruire un luogo diverso. Puoi contribuire anche tu. Puoi contribuire anche tu. A costruire un luogo... Un luogo diverso. A costruire un luogo diverso.